Good morning! Good morning Milano! Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! 7.09 lunedì 18 novembre, siamo qui in diretta su Crystal Radio con un nuovo appuntamento e una nuova settimana di Good Morning Milano. È lunedì, come state? Cosa mi raccontate? Cosa state facendo? Facilissimo! 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, potete condividere con noi la vostra giornata, la vostra giornata di inizio settimana, iniziamo oggi la grande corsa della settimana, la settimana è come se fosse una maratona a staffette, una maratona a tappe, oppure un giro d'Italia, ogni giorno una tappa. Oggi è la tappa del lunedì, quindi tappa conoscitiva, diciamo, è il prologo, tappa conoscitiva con sicuramente un inizio difficile, impegnativo, poi però si comincia a prendere il ritmo durante la giornata per poi arrivare a sera contenti e felici di aver trovato il risultato e di essere arrivati all'arrivo felici e consci del fatto che appunto ci saranno altre tappe che ci porteranno alla vittoria della fine della settimana, va bene ecco, viviamola così la settimana come fosse appunto una sfida in cui vinciamo tutti però poi alla fine, perché l'importante è comunque riuscire tutti quanti a portarci a casa. La nostra agognata maglia rosa, se fosse appunto il giro d'Italia, il nostro premio, anzi premio che non si è portato a casa nazionale che ha perso, ho sentito, questo weekend, quindi niente, non è andata bene il balanzo di calcio che ha perso contro la Francia, però ci sono tante altre, tante altre sono le soddisfazioni che possiamo trovare e prenderci. Buongiorno! E questo era Zucchero con Senzono Donna insieme a Paul Young, oggi è lunedì 18 novembre, 7 e 15 minuti, 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5, fuori ci sono tra i 5 e i 7 gradi e insomma la mattinata è un po' umida, ma dovrebbe andare a migliorare il clima, o meglio tra il nuvoloso e il soleggiato, minimo soleggiato. Questa è la radiografia della giornata, come dicevo prima appunto, inizio del torneo settimanale della nostra vita, così si potrebbe dire, quando arriviamo invece dopo un weekend che abbiamo visto la finale invece di un torneo che sono gli ATP Finals, vinte dal nostro Yannick Sinner. Prima volta che vince gli ATP Finals, ma porta a casa già un record, diciamo che era l'86 che non succedeva. Che cosa è successo? Ha vinto tutto il torneo degli ATP Finals senza mai perdere un set, cosa che succedeva appunto, non era successa più dal 1986 quando fu Ivan Landon a fare la stessa identica impresa. Per farvi capire l'importanza degli ATP Finals, Novak Djokovic ne ha 27, giusto per farvi capire, Tallonat da Roger Federer che ne ha 26 e Pete Sambras e Ivan Landon appunto con 5 a testa. Cosa interessante, se si va a vedere un pochino anche la storia degli ATP Finals, sono appunto questa finale fatta, diciamo che è la chiusura della stagione, sono gli ATP Finals i migliori, si trovano tutti insieme, giocano e si portano a casa il trofeo. È itinerante, gira per il mondo questo torneo e negli anni ha cambiato varie appunto sedi, è stato in Giappone, è stato in Francia, Parigi, Tokyo, Boston, Stoccolma, Hannover, Shanghai. In Italia non c'era mai stato, se non dal 2021 quando appunto è stata scelta Torino come sede, che dovrebbe essere designata come sede fino al 2030, cioè un bel po' di anni. Cosa interessante è vedere che appunto forse anche queste cose centrano molto con il fatto che poi arrivino persone come Yannick Sinner, ma soprattutto arrivano i 3-4 milioni di telespettatori che seguono la finale degli ATP Finals in televisione. Quindi non è solo fatto di grandi atleti come ad esempio appunto Yannick Sinner e tanti altri che in questi ultimi anni hanno comunque animato il mondo del tennis partendo appunto dall'Italia, ma anche portarsi a casa l'assegnazione nel 2021 degli ATP Finals, credo che sia stato insomma una bella immagine, un bel risultato dal punto di vista appunto del movimento del tennis italiano, che sappiamo insomma vivere in questo momento un grande momento, ma scusate anche il gioco di parole e la ripetizione, ma attenzione perché poi bisogna sempre comunque tenere gli occhi ben aperti su questi mondi prima che poi dopo uno se li dimentica, prima che poi dopo uno pensa che va bene, ma sì, poi vincono sempre, cioè insomma. So che ad esempio le scuole di tennis hanno un numero abbastanza elevato, un bel incremento nelle richieste di iscrizione. Cioè sono quelle cose che succedono spesso, è successo con la ginnastica artistica quando insomma abbiamo portato a casa le medaglie con gli importanti, è successo, è anche successo, mi ricordo questa cosa particolare, ad esempio un po' con la vela, quando Luna Rossa si portò a casa le varie Louis Vuitton Cup e l'American Cup, quelle lì no? Ecco, era successo che molti si mesero a fare patente nautica, andavano sul lago di Como a fare appunto tutte le esercitazioni con le barche, non ho la minima idea delle varie differenze, sapete c'è 200.000, alle Olimpiadi si c'è da accorgere, c'è K2, K3, Senn, Varino, Spinnaker, tutte cose che sentiamo solo ogni quattro anni, ma che insomma ci fanno un po' pensare. E adesso buon lavoro Filippo Poletti, buon lavoro! Buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è parta-im, è quello introdotto da Compass, attenzione, hai un genitore con età superiore ai 75 anni, che è distante da casa tua, entro un limite di 30-40 km per i grandi centri abitati, ebbene hai diritto al part-time tu lavoratore. E' la novità introdotta dall'Istituto di Credito Italiano del gruppo Mediobanca. interessanti all'interno del programma dedicato alla conciliazione vita-lavoro anche i permessi retribuiti per l'inserimento, ad esempio, dei figli al nido e alla scuola materna, 30 ore per chi lavora in filiale. Vita dunque e lavoro che dialogano. La seconda parola chiave della settimana è LIBERTÀ assoluta. Libertà assoluta di gestirsi, con anche un budget, pensate un po' di 1000 euro, da spendere in momenti di svago con i colleghi. Ai dipendenti dunque la scelta se lavorare in sede oppure da remoto. È il modello di Bendy Spoon. L'idea è di mettere le persone nelle migliori condizioni di raggiungere i loro obiettivi. lo ha spiegato Alice Valsecchi, People Operations Lead. Esempio interessante. La terza e ultima parola chiave della settimana è GENTILEZZA. I risultati al lavoro dipendono dall'educazione, dalla gentilezza. A spiegarlo è uno studio molto interessante dell'University College London. Dunque la cortesia è sempre opportuna, mai inopportuna. L'assenza di gentilezza è un fallimento di gestione. E come spiega Rosanna Gallo, la psicologa del lavoro, la serenità al lavoro ha un ruolo chiave nello sviluppo dell'organizzazione e appunto nel raggiungimento degli obiettivi. E allora viva viva appunto la serenità anche sul lavoro. Buon lavoro a tutti! Prima di andare in pausa pubblicitaria vi leggo un articolo che arriva da Repubblica Milano che parla proprio di come vi leggo il titolo A Milano i nuovi residenti in calo sull'addio alla città pesa l'effetto carovita. Il comune prevedeva di toccare quota 1.400.000 ma l'Istat certifica che finora siamo a 1.370.000 Essi perché erano nuovi residenti, quest'anno appunto più di 50.000 persone hanno lasciato la città mentre solo 35.000 si sono trasferite qui da altre regioni italiane. La popolazione complessiva quindi è scesa a 1.360.000 ben al di sotto delle previsioni del comune che puntava a superare quota 1.400.000 Ve lo ricordate il grande e pomposo, scusate se uso questo termine, il messaggio del sindaco quando era così felice di aver raggiunto 4.400.000 Sapete anche, se ci seguite da Speda da un po' qui su Good Morning Milano, quello che penso io invece su quello che è il numero, secondo me che non bisognerebbe essere così felice di essere tanti se poi i servizi non ci sono per tutti, è quello che dico io. Secondo l'esperto di demografia Alessandro Rosina, docente alla Cattolica, Milano avrebbe tutte le carte per attrarre nuovi abitanti, ma il costo della vita e le difficoltà negli spostamenti urbani rendono la città meno accessibile. L'attrattività sembra frenata anche per i flussi dall'estero. Da gennaio ad agosto solo 23.000 stranieri hanno preso residenza a Milano con un calo rispetto ai 31.000 dello scorso anno. In controntendenza invece il numero di milanesi che emigrano all'estero in crescita del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche le nascite continuano a calare, quest'anno a Milano sono nati poco più di 6.000 bambini con un calo particolarmente evidente tra le mamme straniere. Invece i decessi rimangono alti e sfiorano già quota 10.000 entro la metà dell'anno che è appena passato. Questi sono i dati comunque riguardanti fino a fine agosto, i dati che sono arrivati dall'Istat. Sta di fatto che appunto quella famosa chimera del 1.400.000 abitanti, vi ricordo tra parentesi che negli anni 70 Milano mirava ai 2 milioni di abitanti, ok? Ecco, è ancora ben lontana. Ma io continuo a dire, è così un problema? È così un grande problema? Se siamo in meno, il problema è capire poi chi siamo, perché non è tanto quanti siamo, ma è cosa siamo. Se ci diventa una città per pochi, e quei pochi sono solo ricchi, solo aziende, solo multinazionali, allora c'è un problema. Se siamo in pochi, ma riusciamo a gestire bene questa città ed essere accoglienti con chiunque viene in questa città ed essere tutti milanesi allo stesso modo, invece, anche se fossimo solo 1.200.000, 1.000.000, a me proprio poco poco, non interesserebbe assolutamente niente. Comunque Milano, appunto, in calo perché non è attrattiva, anche se ci sono altre classifiche, e lo vedremo dopo, che dicono invece il contrario, o meglio, dicono sì. È vero, la popolazione in calo non è attrattiva dal punto di vista dei costi, ma è ancora la miglior città d'Italia in cui vivere, almeno questo, secondo alcune classifiche che andremo a vedere subito dopo il prossimo pausa, subito dopo la prossima canzone. Adesso è Meccalmore. Non sai quando entrare, perché, insomma, Francesco De Gregorio non riesci a fare così, a fermarlo, no? Comunque grazie per i messaggi, qualcuno ha definito una coccola della mattina, quindi grazie a chi ci ha scritto al 33178535555, e grazie anche invece a chi c'è qui di fianco a me, che è solo lei l'inimitabile B.A.Z. Ciao. Beatrice, arrivo col sorriso, porto ovunque. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Accende tutto qua. Non ho capito cosa ci rendono, ma ci rendono. Tutti insieme. Canta con Beatrice, risplende il suo jingle. Canta con Beatrice, risplende il suo jingle. Le chissà anche che canzone la tagliamo, basta, ho deciso, qua si finisce. Eh, bravo. Ho capito che comunque... Posso dire, l'ultima parte non mi fa impazzire, perché c'è questa esplosione... Mi piace questo Fabio ascolta il tempo da imparare. Ricordiamo sempre che perché sentiamo questo strazio ogni volta, perché l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Allora abbiamo, facciamo vedere appunto i limiti, nel senso... Canta intonato, 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 il testo non ha minimamente un senso. E soprattutto la cosa divertente è il fatto che nel ritornello dica di cantare il tuo jingle, cioè se stesso. Esatto. Cioè è come se faccio una canzone, dico, canta questa canzone. A consapevolezza di sé. Dai. Per andare dove? Per andare da 13 Pietro e Irbis. Irbis e 13 Pietro. Esatto, con Serve Amore, canzone uscita l'1 novembre. Pochissimo... Proprio nuova, nuova, nuova. Mi verrebbe da dire però che 13 novembre, come si chiama lì, 13 Pietro, 13 Pietro, non è così lontano di Gregori. Eh no, perché non si direbbe mai, perché non si somigliano per niente, ma è il figlio di Gianni Morandi. Ah, vedi. 13 settenne, figlio di Gianni Morandi. Ok, 13 Pietro. Fa musica da tanto. Fa musica da tanto. E dobbiamo per forza sentirlo anche stamattina. No, non lo so, no. Allora, devo dire, non so cosa stiamo per ascoltare. Ah, non l'hai mai ascoltato? No, no, mi spiace. Non so che ti delude questa cosa. Eh, pensavo figlio di Gianni Morandi, magari anche solo per sentire se imita il padre, se si mangia. No. No. L'unica figlia che ascolto è quella di Zucchero. Di Zucchero? Lei mi piace, sì, la fornaciare mi piace tanto. Ma la conosco. Eh, brava, brava, mi piace tanto lei. Però, no, altri non ne erano ascoltati. Vabbè, l'Angelina Mango. Non l'ascolto. Ah, non l'ascolto. Cioè, è impossibile non ascoltarla, però, nel senso, capito, te la mettono ovunque. Volontariamente non sei mai andato a ascoltare. No, 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 no. Comunque, quindi, 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. Esatto. Ok, allora, ce l'ascoltiamo e poi mi dici un po' perché dovrei ascoltare magari anche 13 Pietro, non solo in questa circostanza. Ok, va bene, va bene. E allora, 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. 13 Pietro e Irbis con Servi Amore. Grazie a Bea Zila potete ascoltare quest'oggi qui su Cristal Radio Good Morning Milano. Fabio non è contento di averlo ascoltato. Allora, no, devo dire che il ritornello mi ha preso. Il ritornello è molto bello. Il ritornello è carino. Io ho detto anche un po', mi sembra un po' diverso da quello che c'è in giro adesso. Ho usato il termine, in realtà, fuori tempo massimo, nel senso, come dire, sembra un ritornello di una canzone di vent'anni fa, anche volendo. Però mi dicevi tu che invece stanno tornando un po' a questo stile. Secondo me i coretti in generale nei ritornelli stanno tornando un po' a questo stile. Va bene. Spiegamela però, perché io sono rimasto a O tutti e due senza l'ascensore e noi vogliamo soli O. Quindi sono rimasto lì con questo senza l'ascensore. Ma cos'hai davanti? Il testo? Il testo, sì, mi sono andato a cercare il testo. Ma dove l'hai preso? Mi sono andato a cercare su Google, sull'internet. Guarda, se volete lo do anche. Guarda, se volete, è qua il testo, cosa vuoi? Comunque, no, perché dovremmo ascoltare 13 Pietro e Irbis con questa canzone? Allora, questa canzone secondo me è carina. Ascoltare questa canzone nel particolare perché, motivo banale ma legittimo, è carina. È orecchiabile. Il ritornello ti rimane in testa. Parla di una cosa, comunque, esplicito il significato della canzone, serve amore. Non c'è nient'altro da spiegare. Ah, non c'è da leggere. Non è che... No, no, no. Sai che poi arrivano quelli della mia età, no? Che dicono, no, ma perché in realtà no? Quello serve amore in realtà è la droga, capito? Sono i drogati, sono tutti questi ragazzi che non hanno niente, non c'hanno i valori, sono drogati, capito? No, questa volta no. Anzi, c'è un riferimento alla droga, perché anche io ho il testo qua davanti. Ok. Perché se no là mi complico perché non ci vedo. Ok. A un certo punto dice, vorrei sentirti ma non siamo allineati, tutte queste canne mi è venuto il DDA, non so cosa sia il DDA, parentesi. Ok, e non lo so se lo sai tu, ma adesso vado a cercare. Sarà una... Non dire cosa che non sai cosa sono. Non lo so, va bene, scusate. In piazza stavamo tutti... Vi dico solo che se cercate DDA su Google così a botta viene fuori direzione disattuale antimafia. Non credo che sia quello in questo caso. Non credo sia quello. In piazza stavamo tutti in fissa coi reati, non so perché, capito? Quindi cita le canne... No, DDA è il disturbo della difficoltà, attenzione, è la DHD tra dottore italiano. Ah, ok. Ok, ok. Vabbè, comunque cita le canne ma in senso negativo, nel dire, ah, le fumate, poi non sono stato bene. Pure salutista quindi, ragazzo mio. Eh, vedi. Va bene. No, no, sì, si sofferma su valori effimeri che ti fanno stare male, che cerchi di inseguire perché ti riempiano le giornate, mentre invece basterebbe solo avere un po' più di amore. Servire solo quello, lui dice, no? Esatto. Ok, dobbiamo ascoltarcelo 13 Pietro? Secondo me 13 Pietro è valido come artista, molto valido. Vabbè, ormai, cioè, prima di questa canzone qua era un po' scomparso, cioè non lo sentivo da un po', però mi ricordo che aveva fatto la sua entrata nella scena con delle canzoni che erano molto carine, ha fatto anche un featuring con gli psicologi, vestiti d'odio si chiama, no, era diventata famosa. Sì, era famosissima, non l'ascoltavo altro io, non l'ascoltavo altro. Era diventata molto famosa. Va bene, sì, tra di voi, cioè. Secondo me, secondo me poi è bello, poi è bello vedere lui, sapere che il padre è Gianni Morà, cioè non lo so, vedere anche magari in futuro cosa diventerà. È una bella storia. Sì, 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 sì. Ma è un caso che non parla di droghe, prostituzione, armi, così, oppure… No, è il bello di 13 Pietro è che non parla tanto di quelle cose lì, parla più di bromance, cioè di fratellanza. Bromance? Sì, sì, sì. Non potete dire fratellanza? Eh, ma è più… fa capire di più come lo dice, capito di cosa parla lui. No, 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 sì, sì, parla più di fratellanza, di legame. Che per quanto? Fratellanza si diceva brotherhood, non si diceva brotherhood una volta? Ma anche bromance, bromance è più deep, è più radicato, capito? È proprio la fratellanza ma dentro proprio, cioè che la senti viscerale sotto la pelle. Ma poi posso dire che se 13 Pietro cantasse tipo di canne, di vita da strada, non sarebbe tanto realistico, cioè fine di Gianni Morà. Infatti può cantare di maratone, sembra al massimo di andare a correre col papà. Dai, cioè sei limitato anche nei contenuti che puoi fare con un padre del genere, secondo me non è realistico. No, è interessante che insomma lui appunto non l'ha… beh, insomma ricordiamo che come si chiamavano quelli lì, la Dark Polo Gang, non è che fossero gente di strada, cioè hanno tutti della Roma bene, cioè… Ha ragione, però… Insomma, ci siamo fatti fregare bene, come dire, anche da quelli lì, cioè ci credevamo alle cose che ci raccontavano, no? Sì, è vero. 777 con la roba lì, no? Eh, ma loro però sono… loro sono dei personaggi… Sì, è abbastanza discutibili, mi voglio dire, no? Io li ascolto, eh, ascoltateli, spaccano. Ah, perché ci sono ancora? Esistono ancora, Dark Polo Gang? Allora, Uniti, no, però hanno firmato con l'etichetta per fare un altro album insieme, quindi sono costretti, mi sembra. Ah, ma Reunion, cioè… Sarà la Reunion, quindi. Io non vedo l'ora di quel momento. Eh, stavo dicendo anche io, ci mancava… Sono emozionata. Sono emozionata. Ah, ok, va bene. I brividi, ragazzi. La bella è la canzone, quella che si parlava delle scappe da ginnastica, non so, c'era una canzone che parlava delle scappe da ginnastica. Ah, Air Force, Air Max. Sì, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì, quella è la forte, è divertente. Sportswear, sì, quella lì, è divertente. Bello, 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 bello. Va bene, quindi un 777 a tutti, va bene, state bene, non ho penso di aver appena detto una cosa che non mi aveva detta, non ho la minima idea di cosa abbia appena detto in diretta radiofonica. Berzi, grazie. 13 Pietro, ce lo segniamo allora, ma non ce lo mettiamo nelle playlist da ascoltare, allora. Va bene, perché questo qui mi hai convinto questa volta, con 13 Pietro mi hai convinto, sì, 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 mi hai convinto, non ho idea che faccia abbia, non mi interessa neanche, ma voglio andarmelo ad ascoltare. No, lo faccio simpa, cioè, non lo so. È pure un simpa. Un simpa. Benissimo, dai. Allora, Biasi, grazie. Andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui, sempre in diretta, a Crystal Radio. Good morning, Milano. Kelly Loggins, Footloose, alle 7.54 minuti, 3-3-1-7-0. 8-5-3-5-5-5-5, il nostro numero di WhatsApp, a cui potete mandare anche segnalazioni, come ad esempio questa. Fabio, segnalazione, guarda che Cesano Boscone, Corsico, Bucinasco e Assago, c'è una nebbia allucinante e non si riesce ad andare oltre i 30 all'ora. È veramente spaventoso. Bisogna fare attenzione. Attenzione, infatti. Grazie mille Adriana. Attenzione, perché insomma, non è semplice girare. Where the fog is Milan. Veramente, dove cavolo finisce Milano quando c'è tutta questa nebbia? Where the fog is Milan. Comunque, state attenti, davvero state attenti. In tutta la zona periferica arrivano segnalazioni sulla nebbia, le temperature ovviamente si stanno alzando e quindi con l'inversione termica c'è appunto la nebbia che sale, sale, sale. E non è agli irticolli, ma è la nebbia, la irta circonvallazione e quindi attenzione alla nebbia. 7.55 minuti, lunedì 18 novembre, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, scriveteci anche durante la prossima pausa perché fra pochissimo arrivano gli ospiti, adesso un po' di musica, il giornale radio e poi appunto vi dicevo, fra pochissimo arrivano gli ospiti che vi raccontano un po' tutto quello che facciamo e combiniamo in questa città. Oggi parliamo di libri, parliamo di libri al femminile, parliamo di libri al femminile e molti direbbero, ah il libri al femminile, il rosa, no, il colore di oggi sarà il giallo e poi capiamo bene perché, con i nostri ospiti appunto qui in diretta. Nel frattempo appunto continuano ad arrivare segnalazioni sul traffico, traffico intenso ovviamente su tutta la cerchia milanese, intensificato ancora di più dalla scarsa visibilità, quindi nebbia molto molto fitta, soprattutto nella zona sud-ovest della città, quindi attenzione davvero a come vi muovete, fate veramente veramente tanta tanta attenzione, mi raccomando. Il Simpli Red con A New Flame alle 8.08 qui su Crystal Radio Good Morning Milano, ricordo sempre Crystal Radio sui 96.2 FM, sul Dub Plus in tutta la Lombardia e ovviamente anche sull'applicazione per iOS Android e il sito internet crystalradio.it, insomma potete ascoltarci in tutto il mondo come volete, quindi siamo qui anche questa mattina e siamo qui appunto alle 8.09 di oggi, lunedì 18 novembre, con delle ospiti, graditissimi ospiti che sono in collegamento con noi, sono tre che sanno il fatto proprio, come si dice in questi casi. Diamo il benvenuto ad Hanna Suni, Alessandra Barbero e Tiziana Prina, buongiorno a tutte. Buongiorno. Buongiorno. Allora si parla di libri, abbiamo tre editrici in collegamento con noi, le plurali editrici, le plurali editrici, 8 edizioni, edizioni le assassine, ma perché ne abbiamo ben tre e vi dico solo che non sono tutte, perché potremmo averne avute, no, potevamo averne nove in realtà, no? Perché chi è che mi vuole raccontare cos'è Resistenze? Dica, dite, non siate timide. Allora, Resistenze è una rete di microeditrici, siamo appunto nove case editrici, un po' su tutto il territorio, alcune a Milano e altre a Roma, anche nelle Marche, Padova, insomma, sparse per lo stivale. Ci siamo messe in rete per aumentare la visibilità, per imparare e crescere insieme. L'editoria è un campo piuttosto complicato, anche difficile, soprattutto per una piccola realtà. Le nostre case editrici singole sono fatte anche di una sola persona, due persone, tre o massimo quattro, credo. E allora non è semplice, diciamo, restare in piedi contro soprattutto i colossi del mercato, che hanno una bella festa, diciamo, del mercato. E quindi abbiamo deciso di metterci in rete facendo delle riunioni, buttando giù delle idee e abbiamo creato un festival di futo che è partito all'inizio settembre di quest'anno e dura tre mesi la prima puntata. Abbiamo identificato un tema che questa volta è identità e ognuno di noi, delle nuove editrici, ha proposto un testo che ha a che fare con questo tema identità e abbiamo creato, appunto, tutto un calendario di eventi per tre mesi che consiste di presentazioni più generiche. Siamo state al Tempo delle Donne, siamo stati a Pisa Book Festival, a Flush di Bologna, che è una fiera di editoria femminista, andremo a Più Libri e Più Liberi, a Roma, insomma, tanti contesti anche importanti dove siamo a raccontare il progetto, piuttosto che non abbiamo fatto delle presentazioni doppie per cui parlando di due libri alla volta perché abbiamo coinvolto 25 librerie su tutto il territorio e quindi in questi luoghi di cultura andiamo a raccontare sia il progetto che i nostri libri. Ecco, alcune delle vostre case editrici sono anche case editrici, diciamo, di settore, nel senso che avete dei settori specifici, in questo caso, ad esempio, conosco molto bene Tiziana Prina con l'edizione di Assassine, il giallo al femminile, prima dicevo, prima nella parte prima dicevo adesso avremmo tre donne, molti di voi diranno il colore rosa, no, ad esempio, a me viene in mente il colore giallo quando sento parlare di Tiziana. Le altre case editrici, anche loro, hanno delle specificità, come funziona? Tiziana, prego, se vuoi anche tu. Ah, vabbè, io devo sempre a Elena Inversetti il famoso motto Assassine di Pregiudizi perché non è il famoso giallo semplice ma è una valorizzazione della scrittura al femminile raccontando, diciamo, di modi di vivere e di pensare un po' diverso dal nostro nella collana oltre confine per cui tutti i nostri libri vengono, diciamo, da paesi che non sono nel mainstream e poi c'è la famosa collana del passato di scrittrici mai tradotte in precedenza. Questa è la mia specificità e il bello di questa rete è che ognuno conserva, diciamo, la propria scelta, il proprio focus editoriale pur cercando di essere in rete e quindi questa è la mia specificità poi lascia le altre a raccontare la propria. Alessandra Barbero di Otto Edizioni invece che cosa ci puoi raccontare su Otto Edizioni e anche tu che cosa porti all'interno di questo Resistenze? Sì, allora, noi come Otto Edizioni siamo più focalizzate sulla narrativa anglofona e poi sulle riscoperte italiane e adesso anche sulla narrativa italiana contemporanea. La nostra specificità è al di là della linea editoriale che appunto noi siamo quattro donne che hanno deciso di mettere su questa casa editrice e abbiamo comunque, pur non essendo così posizionate come altre case editrici che hanno aderito al progetto Resistenze, però abbiamo una sensibilità particolare per i temi che sono diciamo femminili, femministi cioè che sono specifici del quadro del genere. Quindi ci inseriamo in questo contesto. Quello che è importante appunto come sottolineavano le mie colleghe è che ognuna di noi mantiene le proprie caratteristiche e il libro che ha scelto per questa prima puntata il tema dell'identità è proprio un'espressione anche dell'identità della casa editrice e quello che noi riteniamo che sia interessante è il fatto di poter offrire al lettore che entra in una libreria che ha il nostro corner Resistenze di poter vedere come questo stesso tema viene proprio declinato in maniera completamente diversa ma diversa non soltanto per quanto riguarda le modalità ma anche tra la saggistica la narrativa ci sono dei testi che sono più specificatamente rivolti a un pubblico più giovane quindi la nostra idea era proprio quella di dare la possibilità ad ognuno di ritrovarsi in questo in questo tema chiaro chiaro Alessandra ti chiedo un attimo anche ad Anna invece quali sono le caratteristiche le specificità appunto delle plurali editrici tu hai spiegato benissimo il progetto Resistenza ma appunto invece le plurali editrici che cosa portano all'interno di questo bellissimo progetto noi invece siamo una casa editrice dichiaratamente femminista sempre indipendente e pubblichiamo saggistica e narrativa di autrici donne o persone che vivono delle identità marginalizzate quindi queste abbiamo quattro collane e vogliamo alimentare il dibattito femminista parlando delle varie forme di discriminazioni e poi abbiamo anche narrativa ovviamente abbiamo una collana con recupero dei testi del passato quindi l'idea di dare possibilità e voce alle variegate storie delle donne beh insomma abbiamo capito che sono variegate appunto hai detto la parola giusta sia le storie delle donne che raccontate voi con le plurali sia l'offerta che c'è all'interno appunto di Resistenze importante anche capire cos'è questo importantissimo in questo caso bisogno di sorellanza proprio tra voi editrici e ne parliamo fra pochissimo subito dopo subito dopo la prossima canzone adesso diamo insomma lei alto che femminismo parliamo di Lizzo quindi Lizzo about the time alle 8 e 17 minuti qui su Cristal Radio Lizzo about the time alle 8 e 20 minuti qui su Cristal Radio Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp e siamo in collegamento con Tiziana Prina Alessandra Barbero e Anna Suni le 3 delle 9 adesso sentiremo bene chi sono anche le altre case editrici che fanno parte di Resistenze che non è appunto solo sorellanza non è solo case editrici che si mettono insieme tanto tanto altro ma insomma è importante mettersi insieme perché è importante mettersi insieme chi me lo vuole dire per avere direi per avere una certa visibilità perché come sai il mondo editoriale è un mondo assolutamente difficile soprattutto per le piccole case editrici e quindi non è solo una questione culturale che vorremmo sottolineare ma è proprio anche una questione diciamo economica pratica vorremmo anche mettere l'accento sul fatto che siamo in portare avanti questo progetto e quindi come diceva Anna prima cerchiamo anche di instaurare le buone pratiche cioè cercare di trovare come dire quegli spazi che rendono economicamente sostenibile questa questa iniziativa ecco chi sono le altre compagnie di viaggio chi sono le altre compagnie di resistenza allora c'è Astarte di Pisa Asterisco che sta a Milano ma anche a Roma le Capovolte di Alessandria le Comari di Roma e Orso Melero edizioni di Padova e poi 7-9 di Cagli che è nelle Marche ovunque cioè veramente siete arrivate ovunque Alessandra una cosa che stavo pensando adesso mentre ascoltavo la lista però se fossimo anche solo quattro pensa nove editori uomini forse non saremmo qua a parlare di fratellanza o di unione vabbè si l'hanno fatto ok va bene voglio vedere più com'è che fa ancora notizia invece l'idea che delle donne si devono mettere insieme per fare qualcosa di buono com'è questa cosa ovviamente provocatoria ma credo che sia così cioè se due cantanti si mettono insieme due cantanti uomini si mettono insieme e fanno una canzone è un featuring se lo fanno due donne è una notizia perché perché questa cosa nel fatto che diceva della scarsa visibilità che comunque viene un po' riservata ancora al mondo femminile soprattutto quando è un mondo che fa anche impresa che fa anche che si mette insieme al di là del dialogo noi appunto siamo anche e questa cosa è ancora abbastanza sottovalutata e fa poca notizia o fa molta notizia ma come cosa un po' fuori dagli schemi quasi di colore avrebbe da dire a volte il fatto che insomma invece fate cultura noi stiamo parlando di cultura e imprenditoria in questo momento quindi esatto o un'eccezione mentre non dovrebbe stupire il fatto che appunto delle persone che lavorano nel stesso ambito sono insieme per fare un'operazione di questo genere perfetto Alessandra ti sentiamo male Alessandra quindi magari se riesci un attimino a controllare la connessione intanto passo ad Anna parlavamo appunto che non bisognerebbe stupirsi di fronte a qualcosa del genere però sono quasi sicuro che voi in realtà ci stupirete come Anna come ci stupirete? Ma forse la forza di questo progetto è proprio l'idea un po' innovativa di non vedere le altre piccole realtà che operano sullo stesso mercato come concorrenti o nemiche bensì come alleate e come appunto sorelle magari può anche sembrare una cosa un po' un gioco di parole molto leggera questa idea di sorellanza ma in realtà vedere le altre realtà simili ma comunque con un progetto specifico come diceva Tiziana prima cioè ognuno di noi occupa si occupa di un certo tipo di letteratura e non necessariamente siamo in concorrenza ognuno pubblica un certo tipo di libri e quindi piuttosto che pensare allora devo fare le cose nascoste dalle altre piuttosto che lo facciamo proprio chiaramente dichiaratamente insieme un esempio proprio palese tangente il fatto che quando andiamo alle piccole fiere dove è permesso di portare anche libri delle altre case editrici per esempio Capovolte è andato a scomode a Modena a settembre e ha portato con sé i libri di tutte e nove le case editrici vendendole senza prendere profitto per se stessa e lo stesso abbiamo fatto a vicenda durante quest'autunno tutte quante noi avevamo i libri di Tiziana per esempio a un'altra fiera piuttosto che quindi questo è un esempio proprio di dare una mano di piuttosto che non condividere tante buone pratiche come diceva sempre Tiziana abbiamo un drive google drive condiviso insieme dove segnaliamo non lo so commercialiste brave stamperie con buoni prezzi piuttosto che non lo so spedizioni favorevoli eccetera e quindi è proprio la voglia e la volontà di cercare di aiutarci e fare meglio insieme e allora come funziona e come quanto vi potete aiutare lo capiremo subito dopo la prossima canzone quando parleremo ancora meglio di resistenze poi volevo capire bene questa cosa del totem che avete nei vostri libri in alcuni espositori quindi questa cosa la spiegate bene ma per prima ci ascoltiamo Damiano David con Silver Lines e poi torniamo qui anzi c'è una piccola pausa per citare ma poi siamo qua è sempre in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano Lazza con male da vendere alle 8 e 34 minuti invece qua non vendiamo male anzi vendiamo cose interessanti ma non lo vendo io anzi le vendono loro io non c'entro assolutamente niente parliamo dei libri delle 9 case editrici di cui 3 sono collegate con noi del progetto resistenza ma appunto entriamo un po' nel concreto anche più ancora cerchiamo di spiegarlo ancora meglio come posso trovare i frutti di questa vostra resistenza appunto dove li trovo questi prolifici frutti di questa vostra collaborazione provo a rispondere vediamo se fraudio dimmi Alessandra prego prego Alessandra dimmi alle mie colleghe allora noi abbiamo quando abbiamo deciso di organizzare questo festival abbiamo mandato una vela moltissime sento ancora male Tiziana chiedo anche a te di chiudere il microfono che sento un aspirapolbe o qualcosa non so cosa sia che si sente sotto no non c'è nessuna aspirapolbe ma sentivo dei rumori particolari prova Alessandra vediamo quindi abbiamo mandato questa mela a molte librerie e hanno aderito a questo progetto 25 che secondo noi come prima come primo tentativo è un ottimo risultato 25 librerie sparse in tutta Italia abbiamo diverse librerie a Roma a Torino a Milano a Monza a Bologna a Padova insomma davvero in tante in tante città cosa proponevamo a queste cosa abbiamo proposto a queste librerie abbiamo creato un kit diciamo un kit resistenze con del materiale informativo dei gadget quindi ci sono dei segnalibri ci sono dei volantini delle locandine per le presentazioni delle spillette degli adesivi che le librerie hanno ricevuto insieme ai libri che hanno ordinato quindi ai nove libri l'unica condizione che noi abbiamo posto alle librerie quindi non non c'era un acquisto di un numero fisso di libri quindi erano assolutamente libere l'unica cosa che dovevano adottare tutti e nove i testi perché proprio nel discorso di quello che si diceva l'importante è che ci fossero tutte le case di cui ci rappresentano quindi quanti ne vuoi quanti ne vuoi ma almeno quei nove ci devono essere almeno uno di ognuno ci deve essere giustamente ma comunque almeno deve esserci e quindi le librerie poi hanno di solito hanno prontato un corner con i nove testi e con tutto il materiale che potesse spiegare un po' meglio nel dettaglio che cos'era questo progetto ecco ecco adesso questa è diciamo la prima fase diciamo di questo progetto come andrà avanti quali sono i prossimi step ricordiamolo bene arriveranno poi altri libri come funziona appunto quali saranno altri titoli come funziona ditemi un po' chi me lo vuole raccontare allora la prima puntata appunto finisce adesso a fine novembre che aveva il tema identità dopodiché abbiamo individuato un secondo tema che è margini e partirà dal primo di marzo duemilaventicinque andrà sempre per tre mesi fino a fine maggio e diciamo faremo il lancio della seconda puntata al dentro il palenzesto della fiera femminista qui a Roma che è Feminism e che sarà già la sua ottava non edizione forse ora non mi ricordo precisamente e quindi faremo diciamo una presentazione un po' generica del del tema e sempre dei libri che abbiamo individuato quindi ogni casa editrice andrà anche stavolta ad individuare un testo come diceva Alessandra può essere saggistica può essere narrativa poiché Oso Milero e Sette Nove sono case editrici per bambini bambine ragazzi e ragazze di solito propongono ad illustrati e quindi c'è anche una bella varietà a livello di testi però devo dire che è stato molto bello farli dialogare diciamo tra di loro nelle presentazioni che abbiamo fatto ci sono stati gruppi di lettura diciamo che insieme alle librerie siamo riuscite a creare delle bellissime occasioni di fare cultura appunto le librerie scusa Anna che mi dicevi sono sparse praticamente su tutto lo stivale giusto ma diciamo maggiormente da Roma in su per cui come elencava Alessandra ci sono le grandi città quindi Milano Roma Bologna Firenze Torino però c'è anche Cless per esempio c'è Civita Nova Marche insomma qualche piccola realtà sono tutte piccole librerie proprio per la loro misura diciamo ristretta non abbiamo preso un totem non abbiamo voluto imporre delle cose anche difficili da realizzare perché per una piccola libreria ognuno di noi ha una distribuzione diversa anche dei conto vendita dirette abbiamo collaborato con un distributore un magazzino centrale che è CPC insomma però sono sempre azioni comunque difficoltose quindi abbiamo voluto lasciare anche perché non so se prima ero distratto dalla sveglia presto insomma lunedì mattina e presto anche per me a volte ma mi è sembrato di sentire qualcuno che dicesse indipendenti mentre parlava di se stessi chi è che mi vuole raccontare bene che cosa significa essere dipendenti mi verrebbe da dire nel bene e nel male anche però ma soprattutto parliamo di positività in questo caso direi che indipendenti ha molti aspetti positivi che è quello nella scelta libera dei testi senza farsi troppo condizionare dalle logiche di mercato e questo da una parte può anche essere diciamo penalizzante perché se tu pubblichi la qualsiasi però di un personaggio che ha visibilità anche magari poco da dire ma come tu sai la visibilità oggi l'immagine è tutto a parte il fatto che quelli vengono diciamo subito catturati dalle grandi case editrici ne abbiamo viste tanti di pseudo influencer che tapezzano tutte le pareti di una vetrina di una libreria centrale ma non è quello quello che intendiamo fare indipendenti vuol dire avere dei contenuti che crediamo siano sostanziosi in qualche modo e che diano qualcosa non voglio parlare di messaggio per carità perché è una parola abusata però diciamo cerchiamo dei testi intelligenti dei testi che abbiano sostanza e questo è un lavoro che può fare magari un piccolo imprenditore indipendente che non deve rendere conto non so a un consiglio di amministrazione perché siamo così piccole che i consigli di amministrazione qui non se ne vedono e quindi direi che questo è l'atto positivo mentre quello negativo che ci porta anche ad avere questo networking è quello della sostenibilità economica perché ripeto fare l'imprenditrice è molto difficile credo che sia difficile per tutti in questo momento soprattutto però per qualcuno che vende non so saponette piuttosto che un mascara piuttosto che qualcos'altro è molto più facile che vendere un libro molte volte ogni tanto io penso che bisognerebbe mettere su facebook su uno di questi diciamo social il costo della produzione di un libro perché a volte quando vai insisto su questo da milanese imbruttita tutte le volte che vai a una fiera o qualcosa dice ma quanto costa questo libro ma bisogna pensare a tutti i costi che sono nascosti dietro un libro più l'eventuale distributore quindi questo è il lato su cui noi tra l'altro vorremmo lavorare ecco chiarissimo allora non possiamo fare nient'altro adesso che ascoltare ancora un po' di musica e poi tornare ancora qui perché siamo quasi alla fine arriviamo verso la chiusura ma voglio prima appunto dare tutti gli appuntamenti del dove come quando poter imparare a conoscere ancora meglio il progetto Resistenze Irama con Ovunque Sarai alle 8 e 46 minuti qui su Christian Radio Good Morning Milano in collegamento con noi Alessandra Barbero Tiziana Prina e Hanna Suni per raccontarci resistenze anzi vi chiedo siamo quasi in chiusura fateci capire bene ripetiamolo per chi si è collegato solo in questo momento dove possiamo trovare le varie resistenze quando e come allora abbiamo una pagina linktree quindi l'indirizzo è linktree barra resistenze punto editrici e su questa pagina si trovano gli eventi la lista delle librerie comunicati stampa rassegna stampa e tutto quanto e per la prima puntata da settembre a novembre sono rimaste tre occasioni per cui la settimana entrante siamo alla libreria Tlon a Roma giovedì 21 martedì 26 c'è un gruppo di lettura alla libreria Sette Volpi di Bologna e poi l'ultimissimo evento sarà nel palinsesto di più libri più liberi che è il 4 di dicembre alle due e mezzo e ci saremo almeno otto edizioni le commari le plurali e sette nove con due moderatrici e parleremo appunto del progetto e poi si riparte da marzo l'evento del 4 dov'è scusa che non abbiamo anche sentito è nel palinsesto di più libri più liberi che si fa alla nuvola di Fuxas a Roma ok perfetto così meno tutti sanno bene dove andare e poi appunto poi quando sarà il prossimo capitolo in questo caso chiamiamoli capitoli da marzo da marzo 2025 ripartiamo dalla fiera di Feminism che si fa sempre a Roma e facciamo il lancio e poi si riparte sempre con le librerie con le varie occasioni credo saremo al salone di Torino al book club di Milano insomma e facciamo anche un appello allora alle librerie magari più piccoline nei centri meno lasonati e così che invece magari hanno voglia di accogliere appunto le resistenze all'interno della loro libreria giusto? Assolutamente sì sì qualunque libreria sia interessata ad ospitare il nostro progetto noi siamo felicissimi di esserci e come diceva Alessandra appunto mandiamo addirittura gratuitamente questo kit promozionale e ovviamente le librerie poi devono occuparsi di ordinare i libri almeno quello non è che potete fare tutto voi giustamente quindi insomma è un bel progetto un bel progetto soprattutto per far conoscere quello che è un fenomeno interessante che è quello appunto delle case editrici dipendenti in questo caso appunto parliamo di case editrici completamente al femminile che come dicevi però trattano temi davvero davvero trasversali e che insomma possono interessare tutti quanti quindi molto bello anche il fatto che ci siano come dicevate appunto anche delle case editrici che fanno libri per bambini bambine ragazzi ragazze quindi insomma si va veramente a tutto sullo scibile umano è possibile conoscerlo grazie al progetto delle resistenze grazie mille allora grazie mille a Tiziana Prina edizioni le assassine grazie mille Tiziana grazie a te Fabio grazie grazie tante anche ad Alessandra Barbero otto edizioni grazie mille Alessandra grazie a te e anche appunto ad Anna Suni delle plurali editrici e portate il saluto a tutte e nove appunto le case editrici che compongono questo bellissimo cocktail che è Resistenze grazie mille davvero a tutte e tre ciao ciao grazie mille ancora cercate cercate le resistenze in rete le trovate le trovate e potete appunto capire quali sono i prossimi appuntamenti magari più vicini a voi o le librerie più vicine a voi che hanno appunto questo importantissimo corner andiamo con ancora una canzone e poi in chiusura perché siamo arrivati e sono già le 8 e 50 e siamo proprio siamo proprio proprio lì ormai 8 e 50 Purple Disco Machine Duke The Month Nothing By The Thieves insomma c'è un po' di gente che canta questa canzone ce l'ascoltiamo e dopo torniamo qui per i saluti finali 8 e 54 minuti qui su Crystal Radio finisce in questo momento una puntata di Good Morning Milano e dopo di noi va Ambrosio Curti con senti questa e sapete che lunedì abbiamo anche la sua anticipazione allora adesso io vi saluto e poi vi lascio da Ambrosio Curti con la sua anticipazione grazie mille a tutti per averci seguito quest'oggi potete riascoltare tutto questo che è successo oggi qui su goodmorning.milano.it eppure anche su Apple Podcast e Spotify e quindi a domani noi ci salutiamo ci diamo appuntamento a domani ma prima vi lascio nelle bravissime mani di Ambrosio Curti che ci racconta che cosa si sarà questa settimana a senti questa e allora grazie a tutti a domani mattini adesso linea a te Ambrosio ciao 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 ciao